Chi è con Gesù è beato e felice, così il Papa all'Angelus nella solennità di tutti i Santi. Francesco ha ricordato le vittime del terrorismo formulando un appello perché cessino le violenze. I Santi sono ciò per cui esistiamo, così il Vescovo nella messa in cattedrale, Monsignor Tanasini ha indicato questo traguardo come l'unico successo che conta nella vita di ciascuno. Concluso l'ampiamento del cimitero di Carasco, l'opera costava 70.000 euro ma c'è stato un ribasso d'asta di 20.000, potranno così essere realizzati altri lavori di ristrutturazione. Serie D a Mara per le squadre del Tigullio, la Lavagnese ha perso in casa 2 a 1 contro il Seravezza e Sestri Levante è stato sconfitto in trasferta 1 a 0 contro il Real Forte Querceta. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. I Santi non sono modellini perfetti ma persone attraversate da Dio che hanno accolto la luce del Signore nel loro cuore e l'hanno trasmessa al mondo. Lo ha affermato il Papa all'Angelus nella solennità di tutti i Santi esprimendo anche dolore per gli attacchi terroristici in Somalia, in Afghanistan e a New York. Chi sta con Gesù, ha aggiunto il Santo Padre, è beato ed è felice e al termine appunto l'appello per le vittime del terrorismo. La sintesi nel servizio. I Santi non sono modellini perfetti ma persone attraversate da Dio che respirano come tutti l'aria inquinata dal male che c'è nel mondo ma camminano sul tracciato delle beatitudini la mappa della vita cristiana. Così Papa Francesco nell'Angelus in occasione della solennità di tutti i Santi. Una festa di famiglia, di persone semplici, i Santi della porta accanto che aiutano Dio a mandare avanti il mondo perché chi è con Gesù è beato e felice. La felicità vera non sta nell'avere qualcosa o nel diventare qualcuno. La felicità vera è stare col Signore e vivere per l'amore. Credete questo? È un po' meglio, va. Dobbiamo andare avanti per credere questo. Invitando a ricordare nella preghiera la commemorazione dei defunti, dopo l'Angelus il Papa ha lanciato un importante appello. Sono addolorato per gli attacchi terroristici di questi ultimi giorni in Somalia, Afghanistan e ieri a New York. Nel deplorare tali atti di violenza prego per i defunti, per i feriti e i loro familiari. Chiediamo al Signore che converta i cuori dai terroristi e liberi il mondo dall'odio e dalla follia omicida che abussa del nome di Dio per disseminare morte. E ora veniamo in Diocesi alla Messa preseduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini nella Cattedrale di Chiavari. I Santi, ha richiamato citando le parole di Gesù, sono davvero ciò per cui esistiamo. Una vita dunque è davvero realizzata se tende a questo traguardo che è l'unico successo che conta. Sentiamo. E la gioia, il primo sentimento che suscita la festa di tutti i Santi, lo ha sottolineato il Vescovo nell'omelia pronunciata in Cattedrale a Chiavari nel giorno in cui si faceva memoria di chi già vive nella gloria del Signore. La gioia di un'amicizia speciale, ha spiegato Monsignor Alberto Tanasini, quella che ci lega nella comunione dei Santi e ci fa condividere beni più alti. Santi sono tutti coloro che portano il sigillo di Dio, quindi tutti battezzati. Nel libro dell'Apocalisse vengono descritti come una moltitudine immensa. In questa moltitudine, ha proseguito il Vescovo, vediamo volti di uomini e donne che ci sono familiari, che noi stessi abbiamo conosciuto, persone eroiche nella fede fiduciosa e nella carità operosa. La santità appartiene a Dio e ci viene donata. Al tempo stesso però i Santi vengono descritti nelle scritture come dei vincitori. Hanno affrontato la tribolazione e hanno vinto, raggiungendo l'unico successo che conta. Tutti gli altri traguardi sono parziali o fallimentari, ha proseguito Monsignor Tanasini, che ha poi concluso con una domanda. Guardare a questa moltitudine immensa di vincitori non suscita in noi il desiderio di combattere questa battaglia di bene? Di uscire dalla nostra mediocrità, dalla rassegnazione del vivere a metà, l'amore per Dio e per i fratelli. Perché la santità è vivere all'amore ricevuto e donato. Noi siamo figli di Dio, ci è stato detto. Vivere da figli è la strada della santità. Oggi è la giornata di commemorazione dei defunti. A Chiavari alle 15.30 sarà celebrata la messa nel cimitero cittadino, seguita dalla deposizione delle corone al campo militare e al cippo dei fucilati. La celebrazione, che sarà presieduta da Monsignor Francesco Isetti, verrà trasmessa in diretta su Telepace. Alle 18 invece la messa presieduta dal Vescovo in Cattedrale, anche questa in diretta su Telepace 1 al canale 15. Si è concluso a Carasco l'ampliamento del cimitero cittadino. Realizzati 60 nuovi loculi, 39 ossari. Il cantiere riaprirà dopo questo periodo di festa per l'avvio di altri interventi. Tra questi i lavori alla cappella cimiteriale, il restyling esterno dei loculi esistenti, la regimazione delle acque e la pavimentazione. Che cosa hanno riguardato i lavori che si sono conclusi al cimitero di Carasco? I lavori hanno riguardato un ampliamento del cimitero, in quanto ormai vi erano più pochi i posti disponibili e pertanto sono stati realizzati 60 loculi e 39 ossari. L'intervento complessivo a base di gara era di circa 70 mila euro e quindi hanno permesso di realizzare queste due strutture. In parte i loculi sono stati venduti e questo ha anche permesso quindi il cofinanziamento dell'intervento. In questo periodo che situazione c'era il cimitero? Diciamo che ormai gli spazi erano quasi totalmente esauriti e pertanto si sono eseguite anche delle tumulazioni nelle parti rimanenti anche in terra. Quindi ora con questo nuovo intervento si riuscirà quindi a ripristinare e avere una capacità per un po' di anni. Per il futuro che altri progetti avete? Allora intanto con il ribasso d'asta sui 20 mila euro andremo avanti con alcuni lavori di manutenzione ordinaria sempre su una parte del cimitero che riguardano il ripristino delle capotazioni delle acque bianche e della cappella cimiteriale. Quindi abbiamo rifatto le gronde delle acque bianche e poi andremo a intervenire anche sulla pavimentazione e sulla reggimentazione delle acque bianche di parte del cimitero. Eseguiremo anche la presa dell'acqua, la fontana che ora attualmente è esterna, la metteremo internamente in modo tale che è di più facile fruizione per chi verrà a fare visita e pubblicare. E infine andremo a risistemare l'intonocatura e quindi rifacimento dell'intonaco dei loculi che sono realizzati intorno agli anni 80-90. Siamo alla cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un appartamento in località Trigoso lungo la via Aurelia. Il denso fumo nero ha subito spaventato i residenti della zona, tuttavia raccontano i pompieri del distaccamento di Chiaveri non è accaduto nulla di grave. Le fiamme sono divampate da una cucina, il fumo è stato prodotto dalla plastica bruciata. L'interno della stanza è completamente annerito ma non è andato a fuoco nulla e la casa non è rimasta danneggiata. Non ci sono stati feriti né intossicati. Soltanto grande spavento dunque è un'operazione delicata che è durata dalle 10 alle 12 di questa mattina e che ha visto impegnati i vigili del fuoco di Chiavari e di Rapallo. Questa sera alle ore 21 si riunisce il Consiglio Comunale di Sestri Levante. Durante l'assemblea si voterà un aggiornamento al PUC per la realizzazione del depuratore Aramaia. Ad assistere ci sarà anche il Comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossa Lupara. Contrario alla costruzione dell'impianto è autore di un ricorso tuttora pendente al Tar. In un comunicato il gruppo ribadisce l'importanza di costruire un nuovo moderno depuratore ma chiede che venga localizzato in una zona vicina al mare, lontano dalle case, interrato e preceduto da uno studio di fattibilità che sia il risultato di un confronto con la gente. Ora spazio all'economia, parliamo del disegno di legge sul bilancio 2018. Il documento prevede infatti alcune modifiche nei bonus relativi alle ristrutturazioni edilizie. Alcuni punti potranno subire delle variazioni prima dell'approvazione definitiva della manovra da parte del Parlamento. Cominciamo a capire di più con la scheda. Al primo punto viene introdotto uno sconto del 36% da dividere in 10 quote annuali per interventi di sistemazione a verde di balconi, terrazzi, giardini e coperture. Il tetto massimo di spesa è di 5.000 euro per ogni immobile ad uso abitativo. Per interventi condominali il limite va moltiplicato per il numero di appartamenti. Lo sconto riguarda la realizzazione di coperture a verde, di giardini pensili, la sistemazione a verte di aree private scoperte, di edifici esistenti, pozzi, impianti di irrigazione e recinzioni. Sono detraibili anche le manutenzioni e le attività di progettazione. Secondo scende dal 65 al 50% lo sconto su alcuni interventi di risparmio energetico come l'acquisto di caldaie a condensazione, impianti di biomassa, schermature solari, infissi con determinate caratteristiche di legge. Detrazione al 65% invece anche nel 2018 per alcuni lavori di risparmio energetico che rispetteranno i parametri previsti da un decreto non ancora emanato. Il terzo punto prevede detrazioni riservate ai condomini fino al 70% della spesa relativa agli interventi sull'involucro dell'edificio che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda. La detrazione sale al 75% per i lavori che migliorano la prestazione invernale o estiva. Quarto il sisma bonus. Sono premiati fino al 75% i lavori nei condomini che riducono il rischio sismico di una classe in meno. La detrazione sale all'85% per lavori che riducono il rischio sismico di due classi in meno. Si potrà usufruire della detrazione al 50% se la riduzione del rischio è inferiore. Infine viene confermata per il 2018 l'agevolazione che prevede una detrazione pari al 50% per le spese sostenute fino a 10.000 euro per l'acquisto di immobili ed elettrodomestici. Santa Margherita Ligure guarda già al Natale. Nell'ultimo incontro tra Giunta e Ascom si è parlato tra le altre cose dell'organizzazione del Santa Claus Village che anche quest'anno animerà i giardini a mare e anche dei parcheggi cittadini che nelle vacanze natalizie potrebbero essere gratuiti. Durante la riunione inoltre sono stati affrontati i temi del commercio abusivo e dell'accattonaggio per i quali negli ultimi mesi è stato avviato un lavoro anche attraverso la consulta del volontariato. Ora da linea alla rassegna stampa poi ci ritroviamo con le ultime notizie allo sport. Avvenire titola famiglia e pensioni presse in sul governo. AP e Renzi con parte del Partito Democratico sono per il reinserimento del bonus bebè nella manovra chiesto anche l'alta all'aumento dell'età pensionabile. Di Maio se vinciamo noi sostegno a chi ha figli. E sotto a Manhattan un attacco ispirato dal Daesh Cameron baby kamikaze terrorismo killer uzbeko Trump dice stop agli immigrati. E Zingonia integrazione per superare il degrado reportage dal grande insediamento bergamasco. Passiamo invece al secolo XIX. In prima pagina l'attentato di New York. Il killer addestrato dall'Isis voleva uccidere ancora preso un sospetto complice. E poi anche le notizie del territorio. Lo scontro parte da Genova. La nuova sfida per affossare la legge elettorale a colpi di ricorsi. Si parla del Rosatellum. Caso Tesserini nel Levante fungaiole a rischio a Savona soltanto con le pettorine. Tegola nel 2018. Lavagna in rosso scatta l'aumento per Imu e Tosap. Veniamo infatti all'interno del secolo. Contro la bancarotta aumenta Imu e Tosap a Lavagna. Via Libera riequilibrio nel 2018. Imposte più alte. In arrivo anche la tassa turistica di soggiorno e un giro di vite contro l'evasione tributaria. Ma ancora dal secolo XIX nel Levante la droga diffusa anche tra gli under 15. Ascice marijuana ma anche eroina da fumo. Manca la percezione degli effetti sul cervello. Il servizio di pendenza dell'ASL 4 diffonde dati preoccupanti sull'escalation degli stupefacenti. Adesso la linea passa a Genova per la rassegna stampa sul settimanale Il Cittadino. Dare dignità al lavoro. Il titolo di apertura del cittadino di questa settimana si è svolta a Cagliari la settimana sociale. Le proposte per ridare slancio alla presenza dei cattolici nella società a partire dal lavoro. Presente a Cagliari anche una delegazione della nostra arcidiocesi guidata dal cardinale Angelo Bagnasco. Di spalla per un'Europa che sia solidale l'intervento del Papa alla Comece e la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Creare spazi di dialogo e di confronto per ripensare un'Europa unita e concorde l'auspicio del Santo Padre. Taglio basso l'avviso dell'inizio della campagna abbonamenti al cittadino che comincia lunedì 6 novembre. Evidenziate tutte le modalità per sottoscrivere l'abbonamento al settimanale di Ocesano e la carellata di tutte le nostre iniziative editoriali. Andiamo ora in redazione per gli ultimi aggiornamenti. È pronta Cristina Oneto. A te Cristina. Grazie Maurizio. Abbiamo un aggiornamento di cronaca che riguarda i carabinieri di Rapallo che hanno dato esecuzione alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 27enne straniero. L'uomo sarebbe stato protagonista di maltrattamenti e lesioni e danni alla convivente, una 22enne anch'essa straniera. E poi abbiamo una notizia invece che riguarda la scuola alberghiera di Lavagna perché gli allievi della scuola alberghiera si sono classificati terzi alla fiera del tartufo bianco d'Alba. I ragazzi guidati dallo chef Maurizio Berisso stanno seguendo il terzo anno del percorso come operatore di ristorazione. La competizione aveva come tema gli extra food, ovvero i super cibi dedicati alle nuove frontiere dell'alimentazione extra domestica. L'extra food proposto dagli allievi di Lavagna è un sandwich destrutturato che esalta i due prodotti protagonisti. La pera, mandernassa e il nergi, abbinandoli a prodotti tipici del territorio ligure. L'idea vincente è stata quella di accostare il dolce dei due frutti al sapore e agli odori della fumicatura del baccalà legato alla nostra tradizione, all'amaro del prebugiunghi e alla croccantezza della focaccia tipica. Stiamo vedendo appunto le immagini che ci mostrano la fase della degustazione e poi anche gli allievi che sono stati premiati. È tutto lì nello studio. Bene, proseguiamo con lo sport, il calcio. Sconfitte le squadre del Tiguglio impegnate ieri nella decima di campionato di Serie D. La Lavanese ha perso in casa contro il Seravezza, ora prima in classifica, e il Sestri Levante è stato sconfitto in casa del Real Forte Querceta. La sintesi nel servizio. Resta in scia alle avversarie la Lavanese, nonostante l'amara sconfitta contro il Seravezza, che ora si goda il primato nel girone E della Serie D. La vetta è a soli tre punti, è il momento dunque per ripensare la situazione, scrive la società nel comunicato di fine gara. Croce e compagni dovranno fare un bagno d'umiltà per affrontare la prossima trasferta contro il Ligorna. Ma veniamo al match di ieri. I bianconeri regalano i primi 15 minuti agli ospiti toscani, che trovano il vantaggio all'undicesimo con Bortoletti, che lascia Nassano impietrito con un gran tiro da fuori area. I ragazzi di Venuti accusano il colpo e si scuotono, la manovra si fa più veloce e gli avversari iniziano a vacillare. Al trentesimo una conclusione dei bianconeri viene fermata dal braccio di Fedi e l'arbitro assegna il rigore. Croce trasforma dal dischetto e porta la Lavanese sull'1-1. La partita si fa più emozionante, ma le ripartenze della squadra vengono vanificate dall'ottima difesa del Seravezza. Nella ripresa avversari in dieci per l'espulsione di Sicu per doppia ammunizione, tuttavia i toscani non sembrano accusare il colpo, anzi replicano puntuali all'offensiva bianconera. Nei minuti finali Nassano subisce un infortunio che lo costringe a giocare di rimessa, così al novantaduesimo Rodriguez, dopo un lesto contropiede, da 35 metri piazza la palla nel 7 con Nassano fuori dai pali. Un risultato dunque amaro che arriva dopo il pareggio contro il Ponsacco, un punto in due partite che invece avrebbero potuto proiettare la squadra in vetta al Gironee. Tuttavia la classifica resta ottima, in una manciata di punti ci sono Sanremese, Viareggio, Ponsacco e appunto Seravezza. Meno bella piuttosto la situazione del Sestri Levante che ieri ha perso in trasferta 1-0 contro il Real Forte Querceta. La squadra rimane a 9 punti. Bene, siamo giunti in conclusione, ricordo le due dirette del pomeriggio, alle 15.30 la messa dal cimitero urbano di Chiavari e alle 18 la messa preseduta dal Vescovo in Cattedrale. Il telegiornale torna alle 19.15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata. Grazie per averci seguiti, buon proseguimento. Grazie per averci seguiti, buon proseguimento.